Tre nuove squadre giovanili della scuola Baschetta Rezzo tornano in campo. Le emozioni di poter nuovamente vivere un campionato regionale dopo un anno di stop sono vissute da due formazioni Under-14 e da una formazione Under-13 che, forti di un totale di 45 ragazzi nati nel biennio 2007-2008, saranno impegnate tra fine maggio ed inizio giugno in mini gironi dove si troveranno poste in gare di sola andata ad avversarie valdarnesi e fiorentine. L'avvio della stagione Under-14 è fissato per la squadra denominata SBA Rosso Galvar per sabato 29 maggio contro il Firenze Basketball Academy tra le mura casalinghe del Palace Porta Estra Mario D'Agata mentre la SBA Blu romperà il ghiaccio mercoledì 2 giugno a San Giovanni Valdarno con la CMB Valdarno. Questi due gruppi inseriti nello stesso girone sono entrambi seguiti direttamente dal responsabile tecnico della SBA Umberto Vezzosi mercoledì 26 maggio e poi la data segnata sul calendario per il debutto dell'Under-13 di coach Michele Roggi con la trasferta sul campo del Blu Olimpia Legnaia di Firenze e poi la prima gara tra le muramiche sarà domenica 30 maggio con il baloncesto Basket Firenze. Successivamente sono attese le sfide con Club Valdarno, San Cat di Firenze e Pino Basket Firenze che definiranno la migliore squadra che potrà accedere alla fase finale regionale per l'assegnazione del titolo toscano. Per i giovani cestisti della SBA alla prima vera esperienza agonistica l'obiettivo sarà di vivere un prezioso momento di crescita in vista del loro futuro percorso sportivo.